Alcune volte metto pochi libri, tre, o alcune volte dieci. Ma quando sono dieci la tua schiena è messa ad una prova? Sì. L'anno scorso sono caduta dalle scale perché pesava troppo lo zaino. Dai cinque ai sette chili, fino ad arrivare nei giorni con più materie ad addirittura nove. Questo è il cosiddetto peso della cultura che i bambini fanesi delle elementari sono costretti a portare sulle spalle ogni giorno, dopo che le disposizioni anti-covid hanno imposto il divieto di lasciare i libri ed altro materiale scolastico, considerati possibile fonte di contagio, nei sottobanchi e nelle armadi delle scuole, per permettere la sanificazione dei locali e della struttura. Un peso eccessivo per i bambini che, secondo i genitori, può alla lunga nuocere alla salute dei piccoli. Lo zaino è pesante, è molto pesante, specialmente quando fanno anche il rientro, che devono accumulare anche più libri, eccetera. Secondo me sono troppo pesanti gli zaini dei bambini. Oltretutto sono costretta a portarlo io, per andare a scuola e tornare. Sono minimo 6-7 chili. L'anno scorso mi è venuto il mal di schiena per portarlo. Per i bambini eccessi? Secondo me sì, anche perché poi facendo le scale così ripide c'è il rischio che cadano anche all'indietro. Qualche volta è successo che abbiano perso l'equilibrio. Quindi secondo me ci si dovrebbe organizzare in modo diverso. Penso che gli zaini pesino troppo e che sia una autentica cavolata il non poter lasciare qualcosa in classe, perché i bambini non riescono a portare questo peso. Ogni volta un genitore deve accompagnarlo fino alla porta della scuola, invece i bambini dovrebbero prendere autonomia e andare da soli. Quindi in sostanza è meglio lasciare i libri a scuola, perché penso che il Covid non vada a caccia di libri, va a caccia di polmoni. Effettivamente gli zaini si sono appesantiti quest'anno. Se è una misura che effettivamente serve ad originare il contagio, è un piccolo sacrificio che facciamo fare ai nostri figli. Certo, bisognerebbe trovare una soluzione alternativa, non so come, con altri tipi di materiali, non so, aiutandoci magari con il digitale, con i libri elettronici. Speriamo che la scuola possa trovare qualche soluzione, anche perché oggi ne porto uno, gli altri giorni ne porto due, l'altro è a casa. Lei stamattina è caduta con lo zaino, non riusciva a rialzarsi, tanto pesa. Però ci si adatta a tutto, l'importante è andare a scuola. La scuola comunque cerca di venire incontro ai bambini per risolvere il problema. Nella giornata di domani, infatti, avremo la risposta di Monica Dalmonte, dirigente dell'Istituto Comprensivo Matteo Nuti di Fano. Sarà inoltre inviata alle famiglie anche una circolare a riguardo. No, 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 no.